Qui invece dove c'era il cieco Ah, qui è tutto sbarrato Cosa c'è qui? Mi cago, mi cago Oh, madonna, ma sto esplor... Cosa? Chi è? Non lo so, mi sta ricorrendo o me ne vado Io penso di dover andare dall'altra parte Che palle, guarda Che cosa? Via, via Fortuna che ho fatto atletica leggera al liceo Cosa? Perché? Perché è successa questa animazione? Ma è aperta la porta, perché non me la fa aprire? E quest'altra, no? No, solo la maniglia a sinistra si può premere, va bene Grazie Trovo curioso comunque Che nonostante siano... Cioè il giornalista era uno esterno Questo qui invece è una persona che è stata rinchiusa dentro Usiamo la stessa telecamera Era proprio identica Allora, di là c'è una porta aperta Però Mi dà help a colori? No, bellissimo, elettrificato Se lo tocco, mi faccio male? Ah, sì Non mi è piaciuto per niente quel... Perché ho la sensazione di essere tornato indietro? No, perché prima avevo strisciato Beh, qui c'è della luce Ma... Ma no! Mi faccio una sega Mi faccio le seghe Le seghe Le seghe Le seghe Le seghe Che schifo però, eh Ah Siamo giù Ho abbassato il coso e adesso non si masturba più il tipo Ah, c'è gente che mi corre Sì, basta però, eh Santo Dio Fa schifo sta cosa Almeno va in bagno, no? Che cazzo Andiamo in amministrazione E raccontiamogliene quattro, guarda Perché non si può lavorare in queste condizioni E che cos'è? Siamo mica dei cani, noi Chi è che se la ride qua? Il Joker Sono finito ad Arkham, lo sapevo Au Ma scusa, ma io non ho spento la corrente Eh sì, ho abbassato lo... Ma dai Qualcosa non mi tonta Ritorno giusto un attimo a ricontrollare C'ho anche il limite di tempo Ma sei coglione? Ma imbecille di merda Con le mani tutte sporche di post-masturbazione Ma dai Che vergogna Ste persone, ma si può? Prima non si masturba in bagno E dopo mi viene anche a toccare con le mani tutte sporche appiccicose Eh non si può però, eh Io chiamo il sindacato qui Eh non è possibile però Poi basta con sta musica Sti violini Sti archi Sei brutto Vaffanculo Eh che cazzo L'aperta Ah che cazzo Merda E' il primo intelligente che trovo che apre una porta con la maniglia Ah, potevo andare qui in mezzo alla fanga Per me va bene Cos'è quella roba lì? Ah un tubo I geyser Leviamoci dall'acqua Va là che ci sono gli squali assassini con sei occhi Che ho visto tutto quello che finisce dentro le fogne E l'ho visto cosa finisce dentro le fogne Non ho idea di quel che potrebbe Venirne fuori dopo Cosa sto sentendo Cosa è qui Qui c'è il buco Ma porca puttana Che cazzo però Minchia Sto dire sì Mi sta facendo Cagazzare più Bellissimo È Dark Soul Adesso trovo Avel Mi dà un dente di drago sul naso Andiamo su Bellissimo comunque architetonicamente Probabilmente molto inutile No Ah, sarà cosa dell'acqua Vabbè senza neanche cascata Bella la catenona Adesso succede qualcosa di brutto No Oh, che bello Posso buttarmi di sotto e ammazzarmi Giuro che è il primo pensiero che mi è venuto Oh, le due torri Oh, le due torri Che faccio? Oh, madonna Sono atleticissimo La telefica è leggera Allì, c'è Dai però No No Bastardi Guarda di qua dove mi devo ficcare Sti discorsi Però non mi piacciono Ma Stavamo parlando di cose Piselloniche Ma che cazzo di posto è poi questo? Un capanno Con dei letti Ma vogliono tagliare dei peni a delle persone Non ho capito A me non piace origliare Però sti discorsi mi inquietano Dio benedica la Duracell Ha rompito quello lì Cosa? Ma siete scemi? Oh Il leopardo non solo ha le mutande Ma anche la sedia Il pigiamino Tutto quanto Perché non Oddio Oh Un altro amministratore delegato Ah Ok Sti facendo il cospe del uomo ragno Tu vero Non è andato Faceva il cospe dell'uomo ragno ed è sparito come batman Ah Cosa? Devo cambiare le batterie e scappare Troppe cose Troppe cose Mi lavo di culo Va là Fatica eh Lo siamo uomini forti Forzuti Con la forza negli bracci Sono perso Altri in ponte di scarpe Cosa? Salve No ho chiuso la porta Ah mi sono caccato con la mia stessa ombra tra l'altro Come i binghi Tu hai paura della tua stessa ombra? Sì Lo ammetto Una porta Però mi sa che non è la porta Uh Dimmi che mi sono levato di dare balle al primo colpo Alla prima botta Eh si è Eh? Sono il signore della fuga io qua In un house Cos'è? Dov'è che sono finito io? Oh porca Macchina da cucire Sono finito nella fabbrica Nella fabbrica? Sì Oh santo Dio Cosa c'è qui? Per l'amor di Dio Ma vi sembra Il luogo più igienico dove far portorire una povera donna? Eh no eh Eh no Non è questo il posto Io l'amministrazione gli faccio un culo così Oh lì c'è Cosa c'è lì? Porco Dio C'è lì che devo andare Wow cazzo Sei stronzo sei Cosa c'è lì? Cosa c'è lì?